I leader e i negoziatori di oltre 180 paesi stanno per riunirsi a Dubai per la 28esima conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Tra i delegati dell'Unione Europea che parteciperanno, anche il commissario per il clima, Öpke Hüxtra, il messaggio che Bruxelles caldeggerà chiede maggiore ambizione contro il cambiamento climatico. La Commissione Europea è a favore dell'istituzione del primo bilancio globale degli obiettivi di Parigi del 2015. Quell'anno i leader del mondo si impegnarono a evitare che entro il 2100 la temperatura terrestre superasse i due gradi rispetto all'era preindustriale. Ma oltre a valutare i successi e le carenze nell'azione climatica globale a otto anni dall'Accordo di Parigi, i 27 stati dell'Unione e gli altri paesi più industrializzati saranno chiamati a dare sostanza al Fondo per le perdite e i danni creato per i paesi più vulnerabili a cambiamento climatico che non hanno completato il loro percorso di sviluppo. La solidarietà che i paesi in via di sviluppo si aspettano richiede finanziamenti che non tutti sono disposti a concedere facilmente. Il successo della conferenza verrà calcolato su una serie di aspetti. Le stesse delegazioni di Parlamento europeo, Commissione e Consiglio dei ministri dell'Unione europea hanno posizioni negoziali divergenti seppure coerenti in linea di principio sulla necessità di convincere Cina, Stati Uniti e India a inquinare di meno.